Rinvio a giudizio per otto indagati accusati di essere responsabili a vario titolo delle rapine attribuite alla banda dei Rolex. È quanto chiesto dal sostituto procuratore Lucia Baldovin. La banda con le sue incursioni è imperversato nella provincia di Trieste e non solo dal dicembre 2021 al gennaio 2023. L'episodio più eclatante è lagguato a Fabio Galgaro nella propria abitazione di Rupin Piccolo. L'imprenditore 66enne era stato ferito gravemente e raggiunto al collo da un proiettile esploso dalla pistola di uno dei rapinatori che tentava di sottrarre alla vittima il prezioso orologio. Per pochi centimetri il colpo non risultò fatale. Cinque le rapine che in poco più di un anno sono state messe a segno dai componenti della banda e due quelle tentate, secondo l'accusa della procura. L'udienza preliminare è stata fissata per il 12 aprile. Tra gli indagati, cinque albanesi, due italiani e uno svizzero, c'è anche una 37enne triestina considerata dall'accusa la basista del gruppo. Uno degli accusati, albanese, risulta ancora latitante. Ogni componente della banda, secondo la procura, aveva ruoli e compiti precisi. La triestina si occupava dell'organizzazione delle rapine, accompagnava i complici sul posto, svolgeva i vari sopralluoghi. Gli altri componenti, armati di pistole e oggetti atti a offendere, intimidivano, minacciavano e picchiavano le vittime per farsi dare soldi e Rolex. La prima rapina avvenne il 23 dicembre 2021 a Trieste. Bottino da 2.500 euro in contanti e orologio Rolex da 45.000. La vittima era stata minacciata con una pistola. Il 5 febbraio tentata rapina in un'altra abitazione a Trieste. Il 4 marzo 2022 un'altra rapina, sempre a Trieste. Portato via un Rolex da 30.000 euro. Il rapinato era stato tramortito con un colpo alla testa. Pistola puntata a un tassista il 26 maggio dello stesso anno. Sottratto l'orologio e 150 euro. Ad Aurisina il 28 giugno 2022 un'altra tentata rapina in abitazione. Poi il blitz della banda il 30 settembre 2022 a Trieste. Sottratti Rolex, cellulari e chiavi. Infine l'episodio rupe in piccolo. Fu sempre la triestina 37enne, stando agli investigatori, che programmò la rapina ai danni di Fabio Galgaro il 16 gennaio 2023. La 37enne era lì, assieme a uno dei complici albanesi, che aveva esploso il colpo di pistola.